Albano e Romina di nuovo sposi La voglia di rivederli insieme non solo sul palco è veramente forte I loro fans non chiedono altro, Albano e Romina power di nuovo insieme E secondo qualcuno ci sono buone probabilità che i due addirittura dicano di nuovo sì Lo scoop è stato lanciato dalla rivista Nuovo e Barbara D'Urso non ha potuto fare a meno di parlarne nella sua trasmissione, Albano e Romina sarebbero pronti per rinnovare il voto nuiziale che fecero tantissimi anni fa Da parte dei diretti interessati non ci sono state ancora né conferme e né smentite Ma la stessa Romina, qualche giorno aveva fatto delle dichiarazioni sibilline a Maurizio Costanzo Non so cosa è che mi lega ad Albano ha detto un legame indissolubile Questa cosa che ci lega non smetterà mai Questa cosa che ci lega non smetterà mai E alla domanda di Costanzo se in tutti questi anni di lontananza da Albano si fosse mai innamorata, lei ha risposto, no Ho pensato trovo qualcuno più come me ma invece poi c'è un altro fatto strano, secondo me, le nostre voci insieme creano una vibrazione che arriva dentro anche a chi le ascolta e provocano una sensazione di benessere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti